pacco da gold pen con un bel po di novità lo apro insieme a voi così vediamo che cosa contiene via questo eccolo qua mi aveva detto laura di gold pen che avrebbe cominciato a trattare il marchio esterbrook un marchio che sapete insomma un'azienda americana che ha fatto la storia insomma ne parleremo bello qui cosa potrebbe esserci beh riconosco delle cose che ho ordinato tipo delle cartucce un pennino ma vedo anche qualcosa di qualcosa di un po insolito ad esempio che cosa è questo questi sono i fermacarte la stationery da scrivania oppure utilizzati anche per tenere aperte le pagine di un libro che esterbrook ha creato una collezione diciamo ampia da da oggetti colorati come questi qualcosa di anche diverso vabbè ne ne parleremo qui ci sono le mie cartucce e qui vedo degli inchiostri sì perché la forma è quella sono quelli di esterbrook che non ho mai provato e sono curioso quindi di metterli alla prova ma anche quelli ve lo anticipo di md paper inchiostri che ho provato in un paio di tonalità e che ho scelto adesso di provarne altre l'md il gray che vedete l'orange che sto per estrarre e visto che siamo in tema di md ma anche insomma di midori di traveler company ecco qui la penna d'intinzione questa dip pen prodotta per l'appunto da md che affianca la stilografica è interessante questo prodottino soprattutto per chi ha avuto modo di provarlo per quella sensazione tattila tattile un po diversa che conferisce questa resina e poi la lami l'ultima arrivata la lami joy strawberry insomma non ha bisogno di presentazioni e poi cosa ci sarà qui una pilot già una pilot tanto car ha sottoscritto la serie quella piccola la custom 74 ancora una volta un pennino un po particolare il pennino music perché mi piace un sacco ma ve ne ve ne ho già parlato ma ve ne parlerò anche un pochettino più avanti sì sì c'è tutto bella comunque semplice onesta insomma di altissima qualità poi cosa c'è qua dentro c'è avete riconosciuto per caso la tinta il colore di questa confezione beh i più attenti l'avranno riconosciuta certamente stiamo parlando di scribo field writing esattamente è uscita la nuova collezione che affianca la piuma affianca la fil e si chiama la dotta eccola qua il classico astuccio e poi anzi questo è il cofanetto e qui c'è l'astuccio che è veramente molto elegante molto valido che sì d'accordo ce lo paghiamo ma è anche utile due posti insomma ve lo faccio vedere no vi tengo sulle spine e così dai vi rimando alla recensione di questa nuova penna una edizione limitata come per tutte le scrivo fatemi vedere che cosa c'è ancora perché avevo chiesto un po di carte sì questo qua è il lo spiral spring lo spiral ring notebook stranissimo paper pocket lo avete mai visto praticamente ogni pagina una tasca per inserirci delle cose qui abbiamo cartos conosciamo un po tutti quanti questo marchio ci ha abituato a delle copertine molto belle ad una ricercatezza però poi la carta sarà davvero valida per le nostre stilografiche una carta valida che a me piace molto e sapete che la utilizzo è questa quella di canson il blocco schizzi mi piace tantissimo e poi ullala fabriano 12 64 questa è la nuova collezione ho scelto il portfolio praticamente è l'assortimento la campionatura delle 7 8 carte test non mi ricordo da quante siano che vanno dalle grammature più leggere eccole qua 7 dalle grammature più leggere fino a quella da 300 grammi contiene anche un acquarello ma anche qui mi fermo perché dai ve ne parlerò un po più approfonditamente nella recensione favini favini ha una linea la calligraphy con diverse carte ho scelto quella pergamena una carta nuvolata quella color crema anche di questo ne parleremo ne parleremo insomma in maniera un po più approfondita è una carta che non mi dispiace e poi favini il classico dei classici schizza e strappa ma questa volta in edizione speciale quella dedicata dedicata o comunque con la collaborazione di barbara carzo rari una un blocco che si contraddistingue per alcuni aspetti ma non voglio svelarvi ancora e allora non resta che darvi l'appuntamento al video che vi racconterà tutte queste questi bei giocattoli